Massimo Melica, avvocato sostenitore. Grazie, un grande invoca al lupo ad Alleanza per Internet. Questa mattina vorrei richiamare un elemento molto importante che è stato detto. In questi ultimi anni Internet è stata affidata a una specie di classe sacerdotale che ogni sei mesi doveva inventarsi un nemico immaginario, doveva inventarsi un appello, una raccolta firme e probabilmente se Internet è stata diffusa come volevamo in Italia una parte di questa responsabilità è dovuta anche a questa forma sacerdotale dell'utilizzo della rete. Io per lavoro sento una marea di favole perché essendo avvocato le sento e a volte le devo anche raccontare. Però c'è una cosa fondamentale, che bisogna essere molto pratici, bisogna pensare che Internet ha una forte connotazione nella nostra società, però non possiamo, e questa è una cosa che ne ho scritto anche negli ultimi mesi, pensare che l'agenda digitale sia quel decreto che è stato approvato il mese scorso. La genesi dell'agenda digitale nasce nel 1993 in tempi non sospetti, quando con la Bassanini si è dato un ordine alla pubblica amministrazione e si è conclusa con il codice dell'amministrazione digitale. Un'agenda in cui annuncia lo stanziamento di fondi ma di fatto non fa e non farà perché ci sono 21 decreti attuativi che non saranno fatti, quindi iniziamo a togliere tutte queste favolette. L'agenda digitale l'abbiamo già data qualche anno, dobbiamo essere più seri perché Internet è arrivato in un momento, in una società in cui non eravamo pronti a un passaggio economico, se voi vedete le statistiche, nel 1997 si è fermato lo sviluppo in Italia della produttività, nel 1997 Internet si è iniziato a sviluppare, probabilmente ha salvato, altrimenti avremmo avuto un picco verso il basso, non lo sappiamo, però certamente la carenza dei mediatori, la nostra società non era pronta a questo passaggio così rapido, ricostruiamo con serietà e soprattutto io ho aderito ad Alleanza per Internet, oggi ho sentito parlare di lobby, gruppi, punti di interesse, è fatta da persone, composta da persone che ci hanno messo la faccia, che hanno un'ottima reputazione nel corso degli anni, che hanno badato ad aspetti pratici e meno a favolette. Con questo spirito affrontiamo le prossime sfide. Grazie a tutti.